Chianghe, un minuto, prego. E dalle loro case ancestrali in Tanzania, senza che avessero un giusto risarcimento. Tutto questo per lasciare spazio a pochi ricchi turisti. Non è un fenomeno locale, non è una vicenda africana, è un fatto che ci riguarda da vicino. Dobbiamo chiedere più trasparenza alle società europee che operano nel settore agricolo in Africa o al settore privato maggior consapevolezza nei propri codici di condotta. A causa di questo fenomeno, intere comunità vengono espulse dalla terra, lasciate senza risarcimento o fonte di reddito. Non dimentichiamoci che la povertà è una delle principali cause dei conflitti. Grazie. Ora facoltà l'onorevole Chaba Sogor per un minuto e mezzo. Sono migliaia i Maasai.